La rivoluzione c'è stata qui, cioè in alcune zone geografiche il concetto di rivoluzione ha più senso e quindi tu scendi, prendi un autobus, prendi un mezzo di trasporto, una macchina, ti avvii verso queste regioni e ti accorgi che era una rivoluzione c'è stata, ovvero c'è una geografia della rivoluzione. Se non c'erano il regime, questo devono finire tutti in galera e il regime sarebbe vendicato nei loro confronti. Per cui la gente, le ragazze che erano uscite per le strade e avevano accettato lo scontro della polizia, a un certo punto si disperdono nelle campagne e vanno nelle città costiere per farle sollevare. Avant, c'erano 300 martiri in Tunisie, c'erano i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, quindi non c'erano la rivoluzione, come tutta una rivoluzione. Il 6 gennaio, ben lì, una persona che mi pare fosse un appassionato dell'internet stila una lista di dieci uomini per l'internet, particolosi. Parese che poi diventano rivoluzionari ufficiali dopo, in cui c'erano 9 blogger e un rapper, quello famoso è il generale rapper, e fa un'azione coordinata e li arresta tutti. Questi qua si conoscono come il ministro degli interni. La rivoluzione ha praticamente stato scelto da Facebook, per Internet e Facebook. Ma vera, c'erano delle persone che si chiamano le contro-rivoluzione, che hanno massacrato l'immagine della famiglia tunisiana. E, purtroppo, la famiglia tunisiana ha partecipato alla rivoluzione. Quali media abbiamo bisogno? Cosa creare questo cambiamento? Cosa creare questo cambiamento mediaticamente? La Commissione elettorale con noi ha sistemato i seggi alle 6 del mattino. Alle 7 del mattino si sono aperti i cancelli, e fuori dai cancelli una fila composta e già molto, molto lunga. La Tunisia ha voglia di riprendersi in mano la sua storia, stanno votando davvero in tanti, già il 20% degli aventi diritto nelle prime ore del mattino, e stanno votando tutti, uomini e donne, le età più diverse e anche le estrazioni sociali e culturali. Lo si capisce dagli abiti. Ci sono donne velate, donne che vestono gli occidentali, anziane donne che arrivano con i vestiti tradizionali. Tutti hanno in comune il dito blu, che vuol dire che hanno votato, e la speranza per questa democrazia. Abbiamo iniziato un nuovo passaggio della democrazia. C'è il primo passaggio della democrazia nell'istoria della Tunisia. Tra cinque minuti comincia la rivoluzione. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.